Un evento di partecipato, gioioso e di giubilo, ma grazie soprattutto per essere, mediante il tuo sapere, caparbiamente, cociutamente, puntigliosamente, attento e perseverante nello scuotere e sensibilizzare le coscienze di ognuno di noi, soprattutto dei nostri figli, in un mondo dove regna la crisi dei valori, il materialismo, il consumismo, il quantuismo e dove quindi sarebbe per tutti più facile perdere la bussola e sbagliare le elezioni. Grazie di cuore. Ovviamente, eccellenza, mi consenta di consegnare questa donciccia un'altra garicora del cinquantesimo dell'anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Francesco Infelisi, la comunità di Sorbo San Basile gioisce per il lungo servizio di questo suo figlio.